Mi dispiace per la luminosità, ma prendo la molla e la inserisco direttamente nel condotto. Adesso non posso tenere il telefono contemporaneamente, cerco di capire cosa c'è che blocca. Bene, non ho trovato niente che fosse nel nostro scarico del muro, quindi mi viene da pensare che il problema sia il tubo di scarico. Bene, a questo punto cosa vi devo dire? Fate questi tempi prima di chiamare l'assistenza perché ha pagamento. Lo so che mi fa un po' schifo la scena del water, però era l'unico modo per verificare se il problema dipendesse dalla compa o dal tubo di scarico. Ciao a tutti!